Un campo di alta pressione sta portando bel tempo, clima mite su tutto il centro nord d'Italia, temperature fino a 25 gradi. Un po' di instabilità pomeridiana in montagna arriverà nel fine settimana, quando correnti più fresche da ovest giungeranno al nord-est. Venerdì bella giornata di sole, le temperature sono in aumento, massime di 25 gradi, zero termico oltre i 3000 metri. Sabato inizialmente cielo sereno poco nuvoloso, da metà giornata sulla fascia prealpina aumenterà la copertura nuvolosa, non si esclude qualche breve rovescio temporale sulle zone più settentrionali della provincia. Verso sera rasterena ovunque estremi termici tra 12 e 25 gradi, domenica giornata da variabile instabile, mentre in pianura le nubi si alterneranno a schiarite con bassa probabilità di pioggia, sulla fascia prealpina il rischio di rovesce temporali sarà più alto. L'instabilità continuerà anche nei primi giorni della prossima settimana, con un maggiore coinvolgimento anche delle zone di pianura. Temperature in lieve calo con valori in linea con il periodo.